... Prova da centrarsi Bullock, tira da fuori, parabolona altissima, Bullock incredibile, un'altra bomba, parità! 5, 4, 3, 2, 1, sbaglia la bomba, c'è Dalle Vecchia che lascia dare la palla, e va! E va! Vecchia, valido, e la Vecchia ha vinto, però la vince, 74-73, a metà campo, Thunder a raccogliere l'applauso dei compagni, l'abbraccio dei tifosi. Galanda per Nello Laezza che va a tirare, overtime, overtime per la B-Rex! Si può essere amici, per sé, amici, per sé... Si può essere l'ambito per sempre